Siamo manifestando oggi a Mazzara del Vallo, si sono uniti tutte le attività, pescatori, allevatori, agricoltori, attività aziende, partite di famiglia, la comunità europea, sono i lupi, ci stanno distruggendo, dovete fare quello che stiamo facendo qua, unisce tutti e alzare la testa per la dignità dei nostri figli. Oggi perché questo? Questo l'ha voluto la politica, perché la politica non rispetta tutto quello che dice in campagna elettorale, questi sono i risultati. Buongiorno oggi siamo a Mazzara per far capire a tutto il popolo italiano che siamo stanchi di queste direttive della comunità europea che sono antipopuliste e sono contro lo sviluppo della società e cercano solo di dimezzare il popolo. Lottiamo tutti insieme, scendete tutti in strada, ne abbiamo bisogno, l'unione fa la forza!